buongiorno ragazzi sembra che dopo Taremi anche Zelischi abbia accusato qualche problemino ripeto io sono molto di più per i giovani io posso stare anche un anno senza vincere vivo lo stesso ma quando vedo i giovani giocare mi emoziono molto di più quando vedo degli over 30 che ormai sono gli ultimi scampoli della carriera e quindi Danfri si rinnova sono molto contento perché è un giocatore che a me piace tantissimo un giocatore molto sottovalutato per la molla di lavoro che offre ma soprattutto eh per il contributo che l'olandese dà in ogni partita e veniamo eh veniamo a noi che ormai sta spopolando questo chiesa all'Inter con ipotetici quindici milioni non scambio con frattesi più soldi a parte vorrei vedere dove ritrova i soldi la Juve ma sicuramente un modo loro lo trovano sempre ma tornando alla Juve volevo dire una roba su Tiago Motta che fondamentalmente è un allenatore che a me piace eh ma attenzione alla Juve sai perché ti dico attenzione alla Juve perché innanzitutto Motta è la sua prima diciamo eh chiamiamola grande squadra la sua prima grande squadra al Bologna lui eh il suo calcio a Bologna appoggiava prettamente su un'intensità altissima su dei falli anche tattici importanti eh disponibilità di tutti i suoi giocatori ad accettare la panchina perché lui era era comunque uno e faceva l'anno scorso eh moltissimo eh turn over nonostante questo o o Motta finisce la stagione con il suo Bologna cotto i giocatori del Bologna erano tutti cotti questo cosa vuol dire? Vuol dire che ancora a livello gestionale è discutibile ovvero sia eh è ancora incapace nel diluire nel diminuire i ritmi per preservare l'energia dei calciatori e questo per lui alla Juve potrebbe essere un problema e ripeto che a Bologna poi lui alla fine gli gioa solo in campionato non aveva due tre competizioni da gestire veniamo a Chiesa Chiesa Frattesi no grazie io Chiesa se mai vado dalla Juve glielo prendo gratis in faccia glielo prendo gratis in faccia alla Juve non gli do un euro non gli do Frattesi non gli do nulla e te lo spiego Chiesa è un giocatore che a me piace premetto questo ma dopo l'infortunio è un giocatore totalmente diverso rispetto a quello che era due anni fa perché dopo l'infortunio lui è diventato un giocatore mono rotaia i tifosi della Juve questo lo sanno è un giocatore mono rotaia ovvero sia che lui se ci fate caso sterza solamente da una parte non riesce più a sterzare facendo forza sulla gamba operata può essere paura non lo so ma io guardandolo giocare lui sterza sempre dalla stessa parte fa sempre la stessa finta ed è un po' come me fu di Livio vi ricordate di Livio è diventato molto più prevedibile rispetto a quello che era due anni fa fa sempre la stessa finta e poi cerco con quell'infortunio lì gestirlo sulla fascia come punta esterna diventa difficile come ho detto una settimana fa per come la vedo io che non ho la sfera di ristallo chiesa un calciatore da ricostruire una seconda punta per esempio lo vedo più seconda punta lo vedo molto poco sulla fascia anche perché ha troppi tanti problemi fisici quindi frattesa per chiesi chiesa scambio chiesa frattesi più soldi all'inter io sono per il no andiamo lì e prendiamoglielo in faccia gratis lo prendi gratis lo ricostruisci per venino e lo fai diventare un grande giocatore perché anche mentalmente il ragazzo non è più quello di una volta perché bisogna dire che gli infortuni livelli pesanti ti segnano un po' come un po' come le delusioni d'amore anche gli infortuni ti segnano ragazzi cioè quindi è normale lui ora debba riprendere fiducia è stato messo da una parte è stato messo fuori rosa eh c'era un piccolo interessamento anche del Napoli mi dicono ma eh parrucca vuole vuole Mariz giocatori a posto e chiesa fisicamente non è eh non è a posto eh un interessamento parlano del Tottenham ma secondo me la squadra che lo vuole con più forza è proprio l'Inter lo dico senza sapere nulla eh non faccio calcio mercato ma non darei frattesi alla Juve per chiesa frattesi lo tengo lì a me non mi arriva un'offerta a sessanta milioni anche perché non vado a rinforzare la Juve perché se loro danno chiesa a noi e noi diamo frattesi a loro si rinforzano a loro fidati nell'immediato poi magari dopo chiesa un inzaghi migliora diventa forte però a questo ragazzo ho dei problemi fisici e non mi fido tanto ripeto come il calciatore piace piace a tutti penso vedremo come andrà a finire vedremo se l'Inter accelererà per quanto riguarda Gudmundson lo sapete ho sempre detto che è il mio preferito per l'attacco perché la mia per come la vedo io all'Inter serve una terza punta io Taremi non lo reputo una terza punta Taremi non reputo una quarta quinta punta perché dietro i due titolari serve uno più forte serve uno in grado di sostituire uno di due davanti e non sono come certi personaggi su YouTube che eh catalogavano Taremi scarso e ora lo diano che chi critica Taremi non capisce nulla di calcio se te che non ci capisci un cazzo di calcio ma non perché dici che Taremi è buono perché eh voglio dire sentire valutare che gli alciatori è come mettere la ravata maiale quindi è la mia idea io rispetto la vostra per me sarebbe una terza punta Taremi io lo valuto una quarta io Taremi lo metterei al posto di Arnatovic quarta punta ma terza punta sarebbe uno più forte nelle rotazioni di cinque competizioni Gudmundson poteva essere vero e giusto sì eh ce ne sono tanti il problema sono sempre i guattrini Oktrik comunque cosa ha fatto ci ha salvato dal fallimento e questo bisogna riconoscerlo ha cristallizzato la squadra ha rinnovato a tutti ma gli investimenti sono quelli che sono ma perché perché a loro non interessa investire lì l'hanno detto anche più di una volta ufficialmente quindi loro sono qui sono di passaggio ci staranno un anno un anno e mezzo ma non lo so quanto staranno secondo me ci staranno molto poco anche perché se vuoi rimanere a lungo raggio in una squadra innanzitutto la prima cosa che fai metti un tetto in gaggio a 4 milioni vendici alla Noglu a 30 anni a 50 milioni cosa che loro non hanno fatto hanno ottenuto tutti e quindi questa non è la la politica di un fondo che vuole abbracciare un progetto a lungo termine ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti